Ciao ragazzi, sono Soleil, benvenuti in questo nuovo video, è appena finita Juventus-Atalanta 1-1 Allora, ci sono tante cose da dire di questa partita, allora la partita in sé mi è piaciuta La Juventus a tratti, nel senso che il primo tempo mi era abbastanza piaciuto all'inizio Eravamo partiti bene da tutte e due le parti, in realtà sia la Juve che l'Atalanta Perché c'erano occasioni da una parte e dall'altra, ci sono stati ritmi alti all'inizio Perché appena c'era un'occasione da una parte, dopo si ribaltava il fronte e c'era un'occasione dall'altra Scesni ha fatto qualche bel intervento nel corso della partita Primo gol che arriva su azione individuale di Chiesa perché era un'azione corale Però il gol è tutto suo perché si libera e tira da fuori area sotto l'incroce dei pali E quindi il gol è stupendo Poi non mi ricordo se è primo o dopo il gol di Chiesa ma esce Arthur perché si fa male Va a contrasto con due giocatori dell'Atalanta E lì effettivamente avevo visto che poteva già essere grave Speravo di sbagliarmi sinceramente Adesso vediamo, speriamo che non stia fuori più di qualche settimana Perché se no veramente è da mettersi le mani nei cappelli Al centrocampo Bentancur mi è piaciuto Credo sia una delle migliori prestazioni che ha fatto quest'anno Questa stagione intendo Ha retto, diciamo però quando è uscito Arthur si è visto Perché per quanto poco toccassi la palla In ogni caso dettava molti passaggi E manteneva ordinato il centrocampo della Juve Quando è uscito ed è entrato Rabiot si è sentito Poi Rabiot io non gli ho visto fare niente nel primo tempo Poi nel secondo ha avuto tipo 15 minuti in cui recuperava tutti i palloni Poi è sparito di nuovo E vabbè McKennie è bene McKennie era dovunque Ogni volta a destra, a sinistra, al centro Vedevo sempre McKennie spuntare e rubare palla Va bene La davanti non mi sono piaciuti Nel senso Morata avrebbe anche fatto una bella partita Il problema è che oggi non la buttava dentro neanche con le mani Cioè veramente si è mangiato di quei gol Così come si è mangiato dei gol Ronaldo Perché Ronaldo da solo davanti al portiere La spara in curva Cioè con la porta spalancata La spara in curva Io non dico di fare gol Almeno però fargliela parare Cioè no, proprio in curva Ma in generale non ha fatto per niente una bella partita Ha sbagliato anche il calcio di rigore Tra l'altro non mi sembra che l'abbia tirato affatto bene Poi Ecco Morata Solo una volta ha fatto fare a gol In una vera parata Che è stato verso il settantesimo, ottantesimo Comunque il gol dell'Atalanta arriva nel secondo tempo E lì È stato un bel gol di Froiler No, sì, ciao No, aspetta Mi ricordo più chi ha segnato Derun Forse Beh, vabbè Comunque questo gol Lì Bonucci non fa tempo a chiudere E il giocatore dell'Atalanta Che non mi ricordo chi ha segnato Tira Tira, punto E la palla si alza E si abbassa all'ultimo E va Traversa gol Praticamente Cesny prova a pararla Ma la palla lo scavalca A Cesny non do nessuna colpa oggi Perché ha fatto delle belle parate Quindi Non dico niente su di lui La difesa Mi è abbastanza piaciuta Bonucci ogni tanto ha bucato qualche intervento Delicta è stato mostruoso Delicta non ha fatto passare una volta Zapata Si è anche preso legnate sui calcagni da Zapata E oltre a quello comunque ha sempre fatto Cioè veramente quando è stato chiamato in causa Ha fatto più di quello che doveva fare Perché anche quando toccava i compagni Intervenire Riusciva a intervenire lo stesso lui Se i compagni non lo facevano Voglio dire Danilo Fa abbastanza bene Sì Dai Non ha fatto Non mi sembra abbia fatto errori Non ha neanche fatto cose eccezionali Quindi partita da sei Più Credo Chiesa che ha fatto il gol Partita buona Quadrado oggi L'ho visto un po' sottotono Può essere anche la forma fisica Perché le ha giocate tutte Mi sembra fino adesso Quindi può essere O quasi tutte Comunque Comunque Ha sbagliato troppo oggi Quadrado Ha perso troppi palloni Ed è andato per terra tante volte Senza che ci fosse un fallo E a me Sapete cosa Mi va bene Anche la simulazione Ma una volta che vedi che l'arbitro Non ti dà la punizione Alzati immediatamente Perché devi recuperare la palla Non stare lì a protestare Quella è una cosa Che mi dà fastidio Detto ciò Sono entrati appunto Rabiot Di cui ho già parlato Ha fatto 25 minuti Nel secondo tempo buoni Un po' meno anche Per il resto non l'ho visto È entrato Alexandra al posto di chiesa Cambio che sinceramente Non ho capito Anche perché pensavo Facesse i cambi Per vincerla Invece ha messo fuori Qualcuno di più difensivo Cioè ha messo fuori Ha tirato fuori Chiesa che era più offensivo E stava giocando bene E ha messo dentro Alexandro Che era più difensivo Quindi non lo so Sinceramente E poi è entrato Di Bala Ma è entrato tipo All'ottantacinquesimo Non è che potesse fare Vissa quanto Ed è entrato Al posto di Morata Io forse L'avrei messo dentro Al posto di Ronaldo Sinceramente Perché appunto Per quanto Morata Cioè non la buttasse dentro Niente per sbaglio Oggi Comunque La prestazione peggiore L'ha fatta Ronaldo E vabbè Dall'altra parte No però Adesso mi sono ricordata Effettivamente Ad un certo punto Morata lo avrei tolto Perché c'è stato Un momento in cui Aveva iniziato Ad essere troppo nervoso Ci ha preso anche Un giallo E lì Lì lo avrei tolto Immediatamente Perché rischiava Veramente Di essere espulso Però dopo Dai si è dato Un contegno Quindi Avrei tolto Ronaldo A quel punto Niente Dispiace Perché Stasera Tra stasera e domani Il Milan Può allungare E l'Inter Se vincesse con Napoli E non lo do per scontato Perché secondo me Sono alla pari Il Napoli e l'Inter In questo momento L'Inter Se vincesse con Napoli Allungherebbe E il Napoli Se vincesse con l'Inter Ci staccherebbe Perché Per adesso Siamo Ci sorpasserebbe Ecco Mettiamola così Per oggi è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Sempre fino alla fine Forza Juve Ciao ragazzi